Stavolta il Parlamento sta battendo in velocità un'organizzazione leggera come quella del Comune. Infatti il Senato ha approvato l'inasprimento delle pene per gli ecoreati e in particolare il delitto di disastro ambientale che prevede da 5 a 15 anni di detenzione per i responsabili. Precisamente questo reato è chiamato alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema. Dopo la sentenza di primo grado quindi, lo scenario del processo Tamoil, che vede due ex dirigenti condannati per disastro ambientale doloso, si intensifica di interrogativi. Nemmeno ieri la giunta Galimberti ha fissato l'appuntamento con i radicali e in particolare con Gino Ruggeri, che si è costituito parte civile al posto del Comune e che chiede all'amministrazione di entrare nel processo in prima persona, tanto più dopo la pubblicazione delle motivazioni della condanna che risale a metà febbraio. Si parlava di un incontro questa settimana. Per ora invece nulla, neanche una data, solo un orientamento non ufficiale favorevole a Ruggeri. Il centro-sinistra è diviso fra chi vuole che il Comune si costituisca parte civile, capovolgendo la scelta dell'ex sindaco di centrodestra Oreste Perri, e chi al contrario rimane in sintonia con Perri, tenendo viva l'ipotesi di un'alleanza trasversale fra destra e sinistra, favorevole ai lavoratori e all'industria libica, ma non all'ambiente e al patrimonio municipale. Da una parte quindi il sottosegretario Luciano Pizzetti del PD, dall'altra parte l'assessore all'ambiente Alessia Manfredini, che ai radicali è stata sempre vicina, ma anche Sel, che con l'apo Pasquetti ha duramente criticato Pizzetti subendo un'energica replica. Nel pomeriggio di oggi inoltre il Comune ha incontrato l'ARPA, riunione di carattere tecnico per fare il punto sulla situazione dell'inquinamento acustico dell'acciaieria Arvedi, dopo il sopralluogo di lunedì della Polizia Municipale e della stessa ARPA e i ritardi subiti dal piano di risanamento acustico. I residenti hanno segnalato di nuovo sia rumori forti che odori insopportabili.